io sono valerio e che libro hai scelto per la biblioteca ideale ho scelto che è nella spasso nel tempo e ce lo fai vedere wow sembra molto interessante e di che cosa parla parla che il mondo di minecraft è in pericolo uno scudo nemico in cui verso i suoi pixel e solo candle può sconfiggerlo per riuscirci dover soltare i mari del tempo alla ricerca di altri eroi invincibili come lui trattonei di gladiatori dinosauri in bizzadelli misanguinolente e agueriti pirati candle affronta una nuova avventura che come mai prima d'ora la mette di fronte a se stesso e perché hai scelto questo libro mi piace tanto l'avventura e ero curioso della copertina e anche del titolo bene allora grazie mille grazie grazie a tutti per aver visto per aver visto questo video ciao ciao